Da un derby all'altro, dopo quello disputato domenica scorsa al Presti con la San Cataldese finito 0-0, il Gela domani sarà chiamato ad una dura trasferta in quel di Lentini contro la Sicura Leonzio, una gara che promette spettacolo. Le due squadre hanno ambizioni importanti in questo campionato, i bianconeri però si presenteranno all'appuntamento di domani, reduci dalla sconfitta subita nel turno infrasettimanale in quella di San Cataldo. Il Gela invece ha riposato, la partita di calendario con la Turris è stata rinviata giovedì 22 dicembre prossimo. Il tecnico Pietro Infantino. È una squadra importante per questa categoria, ha giocatori che questo torneo l'hanno vinto tantissime volte, è una squadra che ha cambiato allenatore, ho visto una squadra molto aggressiva, molto veloce, però noi lavoriamo su noi stessi, come ho detto con la Cavese, lo dico adesso con la Leonzio, io credo che noi abbiamo tutte le qualità per tamponarli e metterli in grossissime difficoltà. Domani a Lentini non ci sarà l'attaccante Maurizio Nassi squalificato dal giudice sportivo per un turno per somma di ammunizioni, da verificare le condizioni degli infortunati Bonaffini e Gambuzza. Domani mattina faremo l'ultima chiacchierata e poi si farà la formazione, ma credo che tutti i giocatori si sono detti e hanno dato grandissima disponibilità a partecipare a questa gara, però noi dobbiamo essere molto intelligenti perché il campionato non finisce a Lentini, ci sono ancora tantissime partite e non possiamo rischiare di perdere i giocatori così importanti per la rosa. Divertiamoci e facciamo divertire, è il motto in casa gela. Il gioco è un divertimento e se ti diverti, diverti gli altri, nel senso che scendi in campo per essere protagonista, per avere il pallino del gioco e per essere molto, ma molto propositivo per offendere gli avversari. Solo così ti puoi divertire, puoi essere protagonista e puoi divertire gli altri, ma anche un altro slogan che ci tengo tantissimo è quello di stupirci, quello di lavorare giorno dopo giorno per migliorare i nostri limiti, i nostri difetti, per lavorare e per stupirci, conoscendo anche il compagno anche in profondità per creare sempre questa forza che è enorme, nel senso che il gruppo è una forza micidiale per il proseguo del campionato. Nelle ultime due trasferte due vittorie, Roccella e Cava, non c'è due senza tre. Noi abbiamo un'identità di gioco, abbiamo trovato questo sistema che è molto propositivo, molto offensivo, molto aggressivo e non vogliamo cambiare di una virgola questo atteggiamento.